benvenuti sul canale della fatatuttofare in questo video tutorial andremo a realizzare insieme la borsa kaya che avete visto nell'anteprima dunque per realizzare questo progetto avrete innanzitutto bisogno del set kaya che è composto praticamente di laterali fondo manici dunque tutto quello che dovremmo fare sarà di creare dei pannelli scegliendo filati e colori di nostro gradimento io ho scelto il filato slim come vedrete andrò ad utilizzare i vari punti di lavorazione andrà bene per questo filato l'uncinetto del 3 per quello che riguarda il set come vedete il set è praticamente una borsa completa dove sono state lasciate due finestre di apertura che hanno loro nel loro contorno già i fori per predisporre la posizione di pannelli è un set sicuramente pensato per le persone con meno esperienza per tutte coloro che non hanno mai osato realizzare una borsa ad uncinetto bene è arrivato il momento di provare perché basterà semplicemente creare due pannelli anche solo a maglia bassa cucirli nella parte interna o esterna del set e avrete una borsa completa perfetta da indossare in tutte le occasioni che vorrete per dare carattere al progetto potrete divertirvi anche solo con il colore se invece avete già realizzato delle borse e cercate l'idea in più per realizzare questo progetto oggi vi do un possibile spunto creativo dimostrandovi che giocando con i colori mettendo insieme texture diverse eccetera si può dare a questa borsa un carattere davvero particolare andremo a realizzare tre pannelli in tutto in questo primo pannello preso il filato slim bianco potrebbe essere anche nero e con l'uncinetto numero 3 ho avviato 35 catenelle lavorando dunque 34 maglie in righe di andata e ritorno a seconda di del vostro livello di competenza potete decidere voi il punto di lavorazione che potrà essere maglia bassa mezza maglia o maglia alta io ho optato per la mezza maglia ma essendo un pannello che verrà posizionato all'interno e che non sarà visibile potete lavorare con qualsiasi punto di lavorazione questo pannello andrà inserito all'interno quindi non nella parte esterna e la sua larghezza dovrà essere pari alla distanza dei fori presenti nel set perché posizionando il pannello all'interno il pannello deve passare sotto i fori affinché possiamo poi cucirlo correttamente alla borsa quindi questa misura deve essere sufficientemente ampia per passare da un foro all'altro il secondo pannello che faremo invece dovrà essere iscritto all'interno dell'apertura adesso nel momento in cui avete il vostro pannello senza tagliare il filo lo andate a posizionare all'interno della borsa vedete dovete occupare questo spazio e dovete intravedere il pannello sotto i fori quindi una volta che avete ottenuto questo con lo stesso filo di lavorazione e lo stesso uncinetto andremo a cucire il pannello appunto catenella sfruttando tutti i fori presenti con lo stesso uncinetto andate a pescare il filo che avete lasciato dalla lavorazione in questo caso infatti non è indispensabile preparare prima il set e poi fare la cucitura ma faremo una cucitura unica quindi vale la regola che utilizziamo ogni volta che andiamo a preparare il fondo di una borsa ogni catenella caricata sull'uncinetto dovrà essere allungata fino al foro successivo questo per evitare che si creino tensioni quindi entrate passate sul bordo del pannello il filo si troverà quindi dietro il pannello stesso lo pescate lo passate attraverso l'asola quindi il punto che avete appena generato e che avete sull'uncinetto lo andrete lentamente ad allentare fino a raggiungere il foro successivo ci entrate entrate anche attraverso il pannello prendete il filo e tornate in avanti e avete in questo modo formato un'altra catenella in questo modo si dovrà procedere fino a fissare su tutti e tre i lati il pannello che avete realizzato un'altra catenella in questo modo un'altra catenella in questo modo e quindi cucito il primo pannello andiamo a realizzare il secondo io proseguo con il colore bianco e vado a caricare 25 catenelle quindi vado a lavorare su una base di 24 perché c'è già compresa la catenella per voltare per questo secondo pannello vado a lavorare a maglia bassa se nel primo infatti avevamo la facoltà di scegliere se lavorare la maglia bassa la maglia alta la la mezza maglia in questo caso vi consiglio di utilizzare la maglia bassa perché abbiamo bisogno di compattare meglio il lavoro essendo poi questa la sezione che non solo si vedrà quindi è la parte esterna della tasca che vediamo ma è importante compattare il lavoro perché comunque sulla parte esterna della tasca dobbiamo anche andare a sistemare o un bottone a calamita oppure se lo preferite una chiusura pulsante quindi importante che la lavorazione sia bella compatta quindi procedo ripassando la catenella a maglia bassa quando avrete terminato la riga io di solito preferisco far sparire la codina iniziale e quindi la ripasso come vi ho mostrato spesso nelle lavorazioni la potete tranquillamente lasciare fermare in un secondo momento quindi non dovete fare altro che voltare il lavoro mettere parallela la codina e quindi rientrare punto su punto continuando a lavorare 24 maglie basse per ciascuna riga di lavorazione fin quando il pannello non sarà sufficientemente grande se il primo pannello infatti doveva essere posizionato nella parte interna e la sua larghezza doveva essere compresa tra un foro e l'altro il pannello che dobbiamo eseguire adesso deve essere posizionato nello spazio dell'apertura quindi deve essere più piccolo tenete conto una misura 12x12 ottenuto il pannello 12x12 quello che voi dovete verificare di poterlo iscrivere all'interno dello spazio che abbiamo lasciato il primo pannello era 16x18 perché doveva essere più ampio in quanto il nostro obiettivo era di fissarlo direttamente ai fori mentre questo deve essere più piccolo dovete calcolare un centimetro in meno per ciascun lato perché adesso dobbiamo andare a fare 3-4 giri perimetrali perché io non voglio che la tasca sia piatta quindi lasciando il bordo in alto lavoreremo sugli altri 3 in righe di andata e ritorno andando a formare delle diminuzioni negli angoli in questo modo creeremo una bombatura e la nostra tasca prenderà un aspetto decisamente più voluminoso e tridimensionale ripasso dunque il laterale a maglia bassa eseguendo un punto per ogni maglia disponibile cercate di entrare nei punti e non negli spazi per evitare la formazione di buchini raggiunto l'angolo andiamo a creare delle diminuzioni entriamo nell'ultimo punto di questo lato lasciamo l'asola sull'uncinetto entriamo sulla maglia dell'angolo peschiamo il filo lo lasciamo sull'uncinetto entriamo nel primo punto dell'altro lato in questo modo avete tre asole sull'uncinetto che potrete chiudere insieme in questo modo avrete formato la vostra diminuzione questo darà l'effetto bombato alla nostra tasca quindi l'effetto 3d si ottiene con questa diminuzione proseguiamo adesso sulla catenella iniziale andiamo a lavorare in linea punto su punto e ripetiamo questo lavoro nello stesso identico modo sull'altro angolo le riduzioni verranno eseguite solo in questa riga nelle successive tre lavoreremo punto su punto allo scopo di allargare leggermente il nostro pannello che è 12x12 in questo modo si andrà ad ingrandire a sufficienza per occupare tutto lo spazio dell'apertura del set proseguo punto su punto e all'angolo ripeto di nuovo la diminuzione quindi la diminuzione si esegue prendendo tre maglie l'ultima maglia di questo lato quindi prendiamo il filo lo lasciamo sull'uncinetto dobbiamo prendere quindi la maglia dell'angolo il primo punto del lato successivo che il terzo lato una volta che avrete tutte e tre le asole sull'uncinetto chiudete e andate a proseguire i lati da lavorare vi ricordo sono soltanto tre vedete questo è l'effetto della bombatura che otteniamo con le diminuzioni quindi una volta ottenuto questo effetto tutto quello che dobbiamo fare sarà di procedere in righe di andata e ritorno sempre su tre lati andando ad ingrandire leggermente il nostro pannello quindi ho fatto questo lato la diminuzione il lato in fondo la diminuzione vado a risalire poi torno indietro e lavorando questi tre lati procedo per tre giri in modo da poter allargare sufficientemente questo pannello e quindi poterlo cucire alla perfezione sull'altro creando quindi una tasca perfettamente integrata dopo altri tre giri di lavoro in andata e ritorno questa è la forma della tasca vedete la bombatura che abbiamo ottenuto con le diminuzioni e grazie a queste righe di andata e ritorno abbiamo dato alla tasca la dimensione giusta siamo dunque pronti per cucirla non ci resta che prendere la tasca che abbiamo realizzata appoggiarla sull'altro pannello abbiamo lasciato il filo di lavorazione disponibile in modo da poter eseguire la cucitura che potrà essere eseguita sia con ago e filo che con l'uncinetto se lo preferite il pannello deve essere pareggiato a quello sottostante se vi è uscito più basso va benissimo se è più alto no a questo punto dovete tenere presente la forma stessa della borsa adagiare la parte delle diminuzioni quindi la parte bombata della tasca nella parte curva della borsa e poi rimboccare leggermente i bordi sotto quindi a questo punto tenendo il filo di lavorazione ho preferito prendere l'ago invece che l'uncinetto perché è più semplice e quindi vado ad entrare nel pannello sottostante cercando di stare sotto il bordo della borsa e quindi mettete dei marker o degli spilli io non lo faccio perché diciamo c'è un minimo di esperienza ma se non volete che pannelli si muovano di continuo aiutatevi senz'altro con l'ausilio di spilli o di marca punti quindi cosa dovete fare dovete eseguire la vostra cucitura quindi prendere entrambi i pannelli cercando di far passare l'ago il più possibile al ridosso del bordo della borsa la cucitura non si vedrà perché è realizzata in tinta quindi non sarà comunque visibile però cercate di rimanere sotto il bordo in modo da non lasciare traccia della cucitura e fissare alla perfezione la vostra tasca poi se avete altri metodi per poterlo fare ognuno in base alla propria esperienza deve trovare le strategie adatte come vedete io a volte preferisco lavorare con dei punti più lenti in modo da poter muovere le sezioni con meno difficoltà e poi quando ho la certezza che le parti sono sovrapposte bene eccetera vado a ritirare il filo di lavorazione però come detto ciascuno ha il suo metodo e utilizzerà quello a a Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. le due maglie che avete saltato la 1 e la 2 doppio gettato passate davanti alle due maglie altissime già eseguite e lavorate una maglia altissima a rilievo davanti sul punto numero 1 doppio gettato recuperate il punto numero 2 di nuovo entrate a rilievo davanti lavorate la vostra maglia altissima di nuovo andiamo a prendere le quattro maglie alte successive quindi questa è lavorata prendete le maglie successive sempre sul modulo di 4 saltate la 1 e la 2 fate il doppio gettato entrate a rilievo davanti sulla maglia numero 3 e lavorate il vostro punto doppio gettato entrate a rilievo davanti sulla maglia numero 4 quindi passando davanti a questi due punti altissimi andate a recuperare la maglia numero 1 e la maglia numero 2 sempre prendendo a rilievo davanti i punti prima la 1 e poi la 2 come vedete la lavorazione è semplice nel box informazioni vi lascio il progetto nel quale ho lavorato questo punto in tondo così avete la possibilità di vederlo lavorare sia in linea che in tondo se avete in mente altri progetti con questa tecnica di lavorazione passiamo alle quattro maglie successive lavoriamo nell'ordine 3-4 1-2 e procediamo in questo modo fino a concludere la riga con questa tecnica di lavorare al termine della riga vi avanzeranno tre punti che cosa dobbiamo fare sulle prime due maglie lavoriamo due maglie altissime senza incrociare i punti lavoriamo la prima lavoriamo la seconda l'ultimo punto è un punto alto e lo lavoriamo come tale perché noi apriamo tutte le righe con un punto alto quindi apriamo e chiudiamo con la maglia alta adesso potete decidere se lavorare tutto con un colore solo o se invece andare a cambiare il colore inoltre potete decidere anche quanti colori andare ad utilizzare io intanto vado ad utilizzare il bianco più avanti andrò ad inserire altri colori perché questo progetto comunque si sposa con altri progetti che vedrete più avanti quindi cerco di replicare da un punto di vista cromatico l'effetto che darò poi ad un altro accessorio simile in modo che voi possiate coordinarli nel frattempo ho fatto una catenella che vale da nodino tagliato il filo nero volto il lavoro e mi inserisco con il bianco adesso come vedete siete sul rovescio del lavoro quindi i punti si andranno a prendere sul davanti quindi i punti verranno presi a rilievo dietro fate la prima maglia o due maglie basse come faccio io o tre catenelle se le preferite e andate a lavorare su una sequenza di quattro punti come vedete i primi due sono le due maglie altissime che abbiamo lavorato alla fine della riga sottostante che non abbiamo incrociato e che diventano importanti perché per lavorare il punto celtico dobbiamo si prendere quattro punti ma due sul modulo e due sul modulo successivo quindi i punti non vengono sovrapposti ma accavallati tra i motivi sottostanti quindi calcolando quattro maglie vado a calcolare la 1 e la 2 come le due maglie altissime non incrociate la 3 e la 4 sono le prime due maglie del primo modulo disponibile quindi facendo il doppio gettato salto la 1 salto la 2 e dentro nella maglia numero 3 che è una maglia che si trova a rilievo davanti dall'altra parte quindi io dovrò prenderla a rilievo dietro in modo che la lavorazione sia visibile tutta dallo stesso lato quindi prendo la maglia successiva che corrisponde alla maglia numero 4 e quindi come fatto nella riga precedente quindi riprendo il mio punto numero 4 e come fatto nella riga precedente poi mi vado a recuperare le maglie 1 e 2 vedete che sono le due maglie che non abbiamo incrociato quindi devo rimanere sempre sul dritto inclinare l'uncinetto prendere a rilievo questo punto sarà rilievo davanti sul dritto e rilievo dietro sulla lato in cui stiamo lavorando e lavoro la maglia altissima numero 1 di nuovo vado a cercare il punto numero 2 vedete prendete il punto è visibile potete inclinare il lavoro si vede ancora meglio e lavorare la vostra maglia quindi andiamo adesso a realizzare questo incrocio prendendo i quattro punti successivi due sono del modulo appena diciamo più vicino e 2 nel modulo seguente vedete questo è quello che vedete dal dritto quindi lavoro la maglia numero 3 quindi scavalco il modulo nel quale mi trovo e vado in quello successivo lavoro la 3 la 4 e poi vado a recuperare la 1 e la 2 che sono le due maglie presenti nella l'altro modulo quindi noi lavoriamo a cavallo di due moduli mai sovrapponendosi su uno solo quindi le quattro maglie non sono quattro maglie sottostanti perché sono quelle proprio in linea ma dobbiamo prendere due punti sul modulo e due sull'altro in questo modo si crea l'intreccio che caratteristico del punto celtico rivediamola ancora una volta vedete abbiamo lavorato intanto due moduli adesso mi avanzano due punti sul modulo e posso prendere due su quello successivo quindi doppio gettato vado direttamente nel modulo successivo e prendo le maglie che sono la 3 e la 4 doppio gettato vedete prendo a rilievo anche la successiva ripeto la mia maglia altissima quindi torno indietro e vado a recuperare la maglia 1 e 2 presenti nel modulo precedente vedete vi avanzano due punti perché due su questo modulo li avevamo lavorati già quindi recupero la prima e poi la seconda e con questo principio andate avanti fino a completare la riga ovviamente vi avanzeranno sempre tre punti fate due maglie altissime e poi il punto alto di chiusura quindi potete cambiare il colore se lo desiderate e ricominciare farete una riga dal dritto una riga dal rovescio sempre lavorando su un modulo da 4 alla fine della riga vedete vi avanzano tre punti andate a lavorare due maglie altissime sulle ultime due maglie le prendete secondo l'ordine quindi la prima e la successiva non c'è bisogno di accavallare questi punti lavorate la prima disponibile lavorate poi la seconda quindi doppio gettato prendiamo a rilievo dietro l'altra maglia quindi lavoriamo il punto alto di chiusura tagliamo il filo giriamo il lavoro e quindi cambiamo nuovamente il colore io vado a riposizionare di nuovo il nero riparto sempre con una maglia alta quindi mi vado a prendere le prime quattro maglie disponibili quindi le due maglie altissime che non incrociamo i primi due punti del primo modulo disponibile e prendo ovviamente gli ultimi due punti la maglia 3 e la maglia 4 sono dal dritto pertanto i punti verranno presi a rilievo davanti lavoro le prime due maglie e poi recupero la 1 e la 2 passando davanti ai due punti a rilievo già eseguiti in questo modo andrete ad alternare le righe facendo riga 1 e riga 2 in una riga lavoriamo dal dritto e non lavoriamo dal rovescio potete decidere di lavorare con un colore solo con due colori o con più colori e dopo aver eseguito 11 righe di lavorazione fermo il mio lavoro poi voi potete misurare più volte il pannello per vedere quanto sporge in avanti il vostro la vostra patta in modo da poterla sistemare nel modo che preferite ora visto che i laterali sono un po smangiocchiate ripartendo dal primo punto disponibile ho cominciato a fare un primo giro per profilare il pannello e vado adesso a fare l'angolo con voi e quindi a scendere sul lato successivo anche qui vado a saltare un punto e vado a scendere subito sul laterale in modo da creare un angolo leggermente arrotondato non vado a fare le diminuzioni perché non devo bombare ma devo arrotondare e quindi poi riscendo punto su punto di righe in tutto ne vado ad eseguire due in modo da avere il profilo ben definito di questo pannello se eventualmente il pannello vi fosse venuto più stretto del dovuto potete fare anche più righe di lavorazione in modo da potergli dare la grandezza giusta per l'idea che voi avete del vostro progetto dopo aver fatto due righe di andate e ritorno questa è la forma del nostro pannello potete lavorare appunto nocciolina potete mantenere il punto piede pool potete lavorare il punto prada rilievo ci sono tantissime variabili sul tema come vedete abbiamo dato diverse texture alla borsa ma questo era lo spunto che volevo darvi proprio per suggerirvi che un progetto del genere può non essere banale quindi cosa ho fatto la sezione lavorata col punto piede pool l'ho inserita nella parte interna e l'ho cucita facendo in modo che il bordo del pannello corrispondesse all'ultimo foro disponibile sul set così che la patta potesse partire da questo punto piegarsi sulla sommità della borsa e quindi cadere in avanti come potete vedere la tasca è bella capiente questo è l'effetto tridimensionale che abbiamo dato con due semplici diminuzioni la borsa è capiente abbiamo un taschino nella parte anteriore e una patta che andiamo a chiudere con un bottone a calamita che va a dare il carattere giusto alla borsa quindi con questo progetto cosa viene fuori innanzitutto che basteranno anche soltanto due pannelli a maglia bassa per chiudere queste aperture e avere comunque una borsa che nella sua semplicità è comunque una borsa perfetta per mille occasioni potete divertirvi con i colori potete divertirvi con i punti potete divertirvi con le texture e ve ne ho dato dimostrazione con questo progetto creando una tasca nascosta e andando ad utilizzare due motivi particolari come il punto piede pool ed il punto celtico per dare a questa borsa un carattere particolare quindi tutto quello che spero che i suggerimenti che vi ho dato vi possano essere di spunto per creare il vostro progetto super originale grazie e al prossimo video tutorial